cazzo farò se li entra al colpo muoio infatti è arrivato 30 due cane tanto sapere così da così a puttane dio porco ma sai che ferisce c'è anche la il mio bestia è sceso? no si come ha fatto a più gli attimi bomba da fucka ma un po' più due è tramordito uno bomba da fucka te l'ho ribeccato fino di puttana bastardo oh pio no intanto dovrei non puro entrare cazzo il potere dello spam lo conosci a questo l'rpg l'ha finito c'era lì dio boia no 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 l'ho chioccato gliel'ho chioccato fatto finta eh dovresti fare la scala ora e montare di sopra eh si se resta no dio calma stammata all'infinito che no l'ha riassato mi sa merda pompa pompa a mano ma è sotto trappole messa da yak si ok marco la sentila come si venda questo so io eh che mi metto no è giù no è giù marco cazzo sono merda merda loro però possono così se ti aprono l'affare lì sotto e caschi lì sotto è un casino ma chi a me no no marco penso marco su te ancora passi su di te no te dovresti essere tranquillo è chiaro la gara di safe che se siete incastrati loro si sono andati in fogna al dentro sicuro hm ma son dentro la struttura loro si quindi a regola se non si voi dovreste riuscire a costruire qualcosa da bloccarli dentro e poi voi ve ne state sopra invece che che sta mettendo le trappole loro marco l'ha messa ma ci capisco più un cazzo regà loro sono incastrati dentro e marco sta contento ma è stato proprio un marco mi sento così dopo ti incastri nella tempesta e screppi te lo dico che partita ambigua è? ma io non li trovo più non so più dove sono loro ah l'ho visti sono io sono io eh oh io sto spammando a bomba allora qui c'è uno spazio vuoto sono di qua che cazzo ha costruito tei marco? no cazzo non lo so eccolo visto? visto dove erano? eh eh ho colpito lui è sotto lui è sotto lui è sotto è sotto sta cercando di costruire qualcosa sei fatto tipo un nascondiglio lì via v�� via apri apri prm pequena ino excellente piccola signori questa la salvo perché è trollina